buongiorno a tutti e ben trovati alla rubrica domanda risponde oggi mercoledì 19 ottobre 2022 parleremo del rinnovo contratto scuola e dei soldi che dovrebbero arrivare per gennaio 2023 a che punto siamo con il rinnovo del contratto della scuola per docenti e personale atta dopo l'incontro di ieri all'aran 18 ottobre 2022 i sindacati hanno fatto sapere che l'integrazione dell'atto di indirizzo che prevede la messa a disposizione delle risorse per circa 340 milioni di euro sono le risorse della valorizzazione del personale della scuola sta completando il suo iter ed è attualmente al vaglio del ministero di economia e finanza il contratto scuola 2019 2021 comunque non vedrà la luce prima dell'approvazione della legge di bilancio 2023 che verrà approvata dal nuovo governo pronto a insediarsi in queste settimane domanda numero 2 a quanto potrà corrispondere l'aumento medio in busta paga di un docente con il rinnovo del contratto 2019 2021 i sindacati stanno attendendo la nascita del nuovo governo e la nomina del nuovo ministro dell'istruzione per chiedere nuove risorse dunque risorse aggiuntive per il contratto 2019 2021 nella legge di bilancio 2023 l'aumento medio in busta paga di un docente sarà di circa 100 euro lord mensili ma se il nuovo governo ci mette risorse aggiuntive in legge di bilancio allora si potrebbe arrivare a ottenere qualcosa in più domanda numero 3 nel contratto collettivo nazionale di lavoro 2019 2021 della scuola ci sarà sempre la solita separazione tra i permessi del personale precario e quelli del personale di ruolo la proposta avanzata proprio ieri dall'aran prevede una netta separazione tra i diritti contrattuali del personale che si trova con contratto a tempo determinato rispetto a coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato questa è la proposta chiaramente non è stata diciamo così accettata o condivisa comunque dalla parte sindacale speriamo che queste risposte alle domande poste sul rinnovo del contratto possono essere utili continueremo a trattare questo argomento sul con articoli sul nostro sito www.tecnica scuola.it e sarà oggetto anche di dirette nei canali social facebook e youtube di tecnica della scuola arrivederci a tutti ea presto grazie a tutti